Il patrocinio alla gara di Nations League tra Italia e Israele, dopo il no del comune di Udine, se lo contendono in tanti. Si è giunto alla lista anche il comune di Pordenone. Lo sport, l'arte e la cultura devono restare fuori dalle questioni politiche. Per questa ragione offriamo alla FIGC il patrocinio della gara del prossimo 14 ottobre. Lo ha detto il nuovo sindaco Alberto Parigi, appena subentrato da Alessandro Ciriani, eletto al Parlamento Europeo nelle fila di Fratelli d'Italia. Anche Monfalcone si è candidata. Non accorgersi che lo sport è un elemento di unione e dimenticare che Israele, nella vittima di terrorismo di Hamas con 1.500 innocenti uccisi, è un segno grottesco di una caduta di civiltà che una città come Udine non merita di dover sopportare. Saremmo onorati di ospitare l'incontro e ci rendiamo disponibili a offrire patrocinio e strutture per celebrare questo importante appuntamento sportivo. Il comunicato arriva da Anna Maria Cisinta. Ma aveva anticipato tutti Massimiliano Fedriga, proponendo alla Federcalcio il patrocinio della regione, ribadito anche nelle ultime ore. Voglio dare la disponibilità di Regione Frivenza Giulia per il patrocinio della partita Italia-Israele. Un evento importante che dà enorme visibilità al nostro territorio e soprattutto prestigio. Per questo credo che le istituzioni debbano stare al fianco di iniziative di questo tipo. Anche in passato le istituzioni, tutte le istituzioni per eventi di questo tipo, avevano garantito il patrocinio. Strumentalizzare avvenimenti come questo penso non soltanto che sia sbagliato, ma anche dannoso per il nostro territorio.